Ciao, Gart. Devo ordinare gli inneschi? Sì, Mountain. Ne stavamo giusto parlando. E anche del plastico. Che cazzo significa? Lei è Mountain Girl. È il mio braccio destro. Mi aiuta con gli ordini esplosivi. Mi dà una mano praticamente in tutto. Salve! Hai portato la tua puttana alla riunione. Anch'io devo confessare un certo imbarazzo. Credevo di aver chiarito che per la nostra piccola attività sarebbe stato indispensabile il... ...mutismo assoluto. Oh, certo, lo so, ma lei è Mountain Girl. Non ho segreti per Mountain. Solo così si riesce a costruire un sincero rapporto d'amore. Hai portato la tua puttana alla riunione. Questo stronzo qui ha portato la sua puttana alla riunione. Va bene, senti tu. Ti sarei grato se smettessi di chiamare Mountain in quel modo. Lei è l'altra metà della mia vita. Ma che cazzo? Mi guardate tutti come se fossi uno stronzo perché mi sono giocato un lavoro di merda. E questo rotto in culo porta la sua puttana alla casa della focaccina. Tronzo, figlio di puttana, chiudi quella maledetta focaccia. Sei tu che devi chiudere il putto del culo meloso, stronzo. Fatto indietro, indietro. Allora, allora, allora. Vi prego, signori, questo comportamento vi scredita agli occhi dei vostri colleghi e a quelli degli altri avventori di questa casa della focaccina. Stronzetto, guarda qui, ho macchiato di sciroppo di mirtilli la mia sariana. Signori, propongo di considerare la questione di questa donna, Mountain Water. Mountain Girl. Chiedo ovviamente scusa. Propongo di considerare chiusa la questione e di fidarci di lei. Dato che non abbiamo alternativa. E dato che condividerà solo la parte del bottino del signor Pancake. Oh, certo. Non pretendo nulla di più. Eh, ci mancherebbe altro. Fanculo stronzo. Ma vaffanculo te, Mountain Toilet. La questione del nostro lavico impedimento è anch'essa chiusa. Risolta. A questo punto, dobbiamo soltanto fare in modo che Gawain recuperi il suo lavoro. Guc, sì. La mia. Non potremmo corrompere il tizio.